Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Entra pure amico, metti di comodo. Il mio nome? Puoi chiamarmi Jack. Questo è il mio posto. Gestisco questo bar da un centinaio di anni ormai. Ci sarà uno spettacolo più tardi. Se sarai ancora qui in giro, potresti guardarlo. Che ne dici? Oh, hai tempo per un drink? Perfetto allora. C'è qualcosa che non va? Quella parte dei cento anni, forse? Beh, amico mio, sono più vecchio di quello che sembri. Sono un demone. Posso dedurre dalla tua espressione che non sei incappato in uno di noi prima d'ora, ma noi esistiamo e ti garantisco che entro la fine della conversazione ne sarai convinto anche tu. Puoi stare tranquillo comunque. Non voglio farti del male. Non fa bene agli affari. E io ci tengo ai miei affari. Su questo palco vedrai alcuni tra gli artisti più talentuosi in circolazione. Mi considero uno scopritore di talenti senza uguali. Sono specializzato in contratti per fame e fortuna. Posso donare al fortunato individuo dieci anni di vita da vivere immersi nei propri sogni. Ma poi tocca a loro pagare. In cambio, lavorano per me per il resto dell'eternità. Nessuno ci pensa mai due volte. C'è una fregatura comunque. Questo patto funziona solo quando la mia controparte nel contratto ha 17 anni. Non so il perché. Non le faccio io le regole. Qualche esempio? Probabilmente ne conosci qualcuno. Il primo ragazzo che ho fatto firmare era davvero speciale. Creò un nuovo genere tutto da solo. Si chiamava Robert. Un vero demone della chitarra. Perdone il gioco di parole. Sembra comunque che tutti conoscessero il nostro patto. Sì, la famosa storia del crocevia. Peccato che Robert non fosse pronto a tener fede alla sua parte del contratto quando tornai da lui. Così dovetti dare una mano al destino. Per così dire. L'avvelenamento da strecnina può essere davvero doloroso. Oh, così ho sentito dire. Vedi, questo è il fatto. Loro sono felici nello scambio finché sono 17 anni. Ma quando raggiungono i 27 anni invece, quella cosa li consuma. Non riescono a pensare ad altro. Alcuni sfruttano quell'ultimo periodo per scrivere quanto più possibile. Altri tentano di distrarsi in ogni modo per non pensarci. Droghe, alcolici, donne. Le cose belle della vita, insomma. Ti riempio il bicchiere? Questo ragazzo, Cart, mi stupì. Riuscì ad evocarmi contro la mia volontà. Mi tirò proprio dentro alla sua maledetta stanza. Appena mi presentai da quello sciocco dai capelli arruffati per portarlo qui, tirò fuori un fucile dicendo che il patto era rotto. Si fece esplodere le cervella proprio di fronte a me. Che stupido. I patti sono legami. Ucciderti non ha fatto altro che portarti qui rapidamente. Sono pur sempre un demone. Un altro che dovrei nominare è Jimmy. È uno di quelli rari. Il ragazzo era talmente fatto quando arrivò qui che ci vuole una settimana per convincerlo della sua morte. L'unica cosa che gli importava era avere una chitarra con cui suonare. Ora si esibisce qui ogni venerdì sera. Io ho lavorato sodo per loro. E ora loro lavorano sodo per me. Sono orgoglioso di questo bar. Ho i migliori spettacoli del mondo da mettere in scena. E li mostro a chiunque sappia come arrivare in questo posto. Tu non ricordi come ci sei arrivato, vero? Ne parleremo con calma, tranquillo. Qualcosa mi dice che... Hai molto più tempo libero di quello che credi. Gradisci ancora un altro drink?